Un po' di ghiaccio ho detto. No, no, manca. Va bene, va bene. Pronti? Bene. Innanzitutto vorrei ringraziare le due persone che mi hanno nominato e sono il nostro allenatore Stefano Avarini che sicuramente avrà dei problemi e la dottoressa Chiappa, direttore sanitario dell'ospedale Giovanni XXIII. Probabilmente sapevano la mia totale avversione per l'acqua fredda, quindi li ringrazio molto. Ho seguito anche la polemica farlo o non farlo. Io credo che, soprattutto in questo caso, il fine giustifica i mezzi, in questo caso ovviamente. Quindi mi presto volentieri a fare questa doccia ultraghiacciata. E' chiaro che a seguito di questa piccola kermesse bisogna fare un proseguo dando chiaramente una donazione perché altrimenti non ha senso niente. Vorrei nominare due persone. Una a un mio carissimo amico, l'ingegnere Paolo Bolis di Misma e il nostro addetto stampa del Volei Bergamo, Giorgia Marchesi che chiaramente ha sempre visto dall'altra parte questi nostri piccoli giochi e questa volta credo che li tocchi. Quindi grazie a tutti. Via! Grazie a tutti!